Salve! Salve! Buongiorno! Buongiorno! Benvenuta! Grazie! Ha visto qualcosa di suo gradimento? Beh, guardi, ha dei capi veramente splendidi! Grazie! Solo che io vorrei un'imitazione di capretto! Oh! È venuta nel posto giusto! Bene! Adorabile! Lavoravo al circo! Bene! Allora, continuiamo a cercare il mio marito, poi torniamo e vediamo il sommato! Va bene! Di fare qualcosa! Arrivederci! Anche il suo marito! E la mucca come la so fare? Allora! 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 Allora!